Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un'edizione speciale di Pancast Reaction. Perché edizione speciale? Perché oggi andremo a commentare e a guardare insieme l'ultimo video dei Bull Brigade, Strade Smarrite, che è una riedizione di un loro vecchio pezzo. Perché lo facciamo? Perché facciamo ciò? Semplicemente perché c'è stata una specie di scandalo autotune all'interno di questa nuova release dei Bull Brigade. Perché diciamo che la cosa che ha fatto più scalpore è stato il fatto che appunto il vocalist Eugenio Borra, Eugi, ha fatto uso di questo strumento all'interno di questo suo nuovo pezzo. La cosa è stata presa per lo più in modo abbastanza innocuo dalla gente, nel senso che, boh, la gente si accorta di questo fatto, però voglio dire non è che è cascato il mondo. Però visto anche, ho scrollato un po' di commenti, ho visto che comunque c'è gente che l'ha presa anche male. Sta cosa qua mi fa un po' sorridere, ma va bene uguale. Allora io parte del pezzo l'ho già ascoltato, perché me l'avevano mandato degli amici perché mi ero incuriosito a questo discorso, ma non ho visto il video. E il video me l'ha mandato proprio Eugenio, che mi ha scritto il giorno in cui è uscito il video dei frammenti in cui lui faceva il featuring, e mi ha scritto se volevo andare a vedere il video, se mi interessava fare una reaction di questo loro nuovo video. Lo faccio volentieri, io premetto i Bull Brigade, vabbè, contestualizziamo un po' il discorso. Bull Brigade, band di Torino, punk rock, oi, street punk, chiamatelo come vi pare, strafamosa, l'estate scorsa hanno suonato praticamente ovunque, in qualsiasi festival, in tutte le build, i concerti punk in Italia c'erano sempre i Bull Brigade. Io non sono grandissimo fan dei Bull Brigade, ma non perché per loro, non sono grandissimo fan in generale di quel tipo di corrente del punk, del punk hardcore, del punk rock, quindi non ho niente contro i Bull Brigade, anzi, sicuramente sono dei regaz, non li conosco, ma anzi, ho scambiato qualche parola con Eugenio, mi è sembrato un regaz, però non hanno sicuramente bisogno della mia promozione, perché vedo che sono una band super seguita e super apprezzata. dicevamo appunto Bull Brigade, Strade Smarrite, Strade Smarrite è un pezzo che è presente nel loro disco che si chiama Strade Smarrite, appunto, che è di parecchi anni fa, io non conoscendo bene i Bull Brigade, 2008, ok, Strade Smarrite del 2008, 15 anni, e andiamo a sentirci com'era il pezzo in originale, perché io, sincero, non ho mai sentito in originale questo pezzo. Sentite già dalle prime battute che è questo punk molto stradaiolo, ma io lo dico per quei tre che non hanno mai sentito i Bull Brigade, voi li conoscete benissimo, anzi, li conoscete sicuramente meglio di me. Passano i giorni, non capisce più, la strada presa dove finirà, quale destino in servo c'è per lui, che cazzo ancora gli succederà, ha visto amici scivolare via, ha fatto così immaginate mai. Mi è parso, oltretutto, di capire che questo pezzo sia uno dei loro cavalli di battaglia, penso tipo a una matchbook degli Strang Out, per dire, no? Quindi è un pezzo comunque iconico che tutti conoscono e tutti cantano ai loro concerti. E invece un giorno poi si accorge che ha un'altra faccia questa verità, contro gli amici ancora intorno a lui, pensa la vita a qualche scherzi fa, e la vendetta inizierà così, ad abitare tre pensieri suoi. Ok, dai, vabbè, non stiamo ad ascoltarla tutta. Quindi questo era, diciamo, Strade Smarrite, nella versione originale di 15 anni fa, quindi un pezzo punk rock stradaiolo. Ovviamente in questa versione il discorso autotune non era neanche stato preso in considerazione, ma perché comunque non avrebbe neanche senso in una produzione del genere ficcarci dentro un effetto come l'autotune. Andiamo però a vedere come è stato inserito nella nuova versione e che forma ha preso questa nuova versione di Strade Smarrite. Eccoci qua. Quindi qua si tratta di video, un video, diciamo, un footage live. Sentite già subito che comunque questa versione è una versione acustica e non è più una versione punk stradaiola come quella di prima. Questa è la loro set list. Vedete che Strade Smarrite, a meno che non ci sia da un'altra parte, ma penso che stia scrivendo proprio quello, è l'ultimo pezzo, quindi come dicevo prima è uno dei loro pezzi iconici. Sto c'è tutta la preparazione pre-concerto, cosa che chi ha suonato in una band ha vissuto e a mio parere è forse uno dei momenti più belli di un concerto. Sono quei 30 secondi, quei pochi minuti, diciamo, che ti separano dal salire sul palco sono i momenti di massima adrenalina, perché poi dopo quando sei sul palco, dopo 10 secondi questa si scioglie e si trasforma in qualcos'altro. Però quei minuti prima di salire, soprattutto se è un concerto un po' importante relativamente alla grandezza della band in cui potete aver suonato, tutti abbiamo avuto un concerto più importante, anche se fosse magari perché c'era la vostra fidanzata o vostra nonna che vi stava guardando. E quei 30 secondi prima di salire sul palco sono pura adrenalina. Ok, questo è un locale, non so bene che locale di Hiroshima può darsi, non ho idea, è un locale di Torino, immagino. Comunque è sold out. Ok, quindi trasformata in pieno in una ballad, come potete sentire. Già qua si sente comunque questa voce effettata, molto diversa rispetto a quella cruda che usava invece nella versione originale. Bellissima sta maglietta di propagandi. L'ho sempre voluta, non l'ho mai trovata. Devo comprarmi quella maglietta di propagandi. La produzione è grossa però, produzione è proprio figa. Io vi dirò, a me sinceramente questo autotune, che poi voglio dire non è una cosa esagerata, questo amalgama tutto il pezzo, secondo me ci sta. Non è, non è male. Poi è fighissimo anche tutte queste, queste voci del pubblico. Ah, figo. Fa molto ambient. Oh, guarda lì, c'era il mio amico Piotta, con la maglietta di miseria nera. Eccolo lì. Cazzo. Eccolo lì. Ciao Piotta. Ciao ciao. Eccolo lì. Beh, così, diciamo che è fatta in questo modo. È una canzone che potrebbe suonare anche bene, benissimo in una qualsiasi radio, come potrebbe essere Virgin Radio, per esempio. Probabilmente, cioè, sicuramente i Bulbri Gay non hanno fatto questo per finire in radio, perché non gliene fregherà un cazzo, non sto dicendo quello. Però è una versione molto più easy listening, molto più facile per qualsiasi tipo di ascoltatore. Potrei farla sentire benissimo a mia mamma e gli piacerebbe, cioè una ballad. E in questo contesto il fatto di usare questo tipo di effetto sulla voce, secondo me non è nulla di così scandaloso. Bello anche il coro. Cos'è che dice? Dietro di lui solo la nebbia? Bello. Anche il video è molto bello. Anche gli archi sotto, cioè, no, è una produzione della Madonna. E non se ne è andato già, come in una vecchia fotografia, rimane solo con la sua città. E allora pensa a quel momento in cui, bastava la presenza della crew, sognare amici tutti intorno a lui. E il caldo abbraccio della sua tribù E ancora sognerà quel tempo che non tornerà Strade smarrite nell'oscurità Ed ogni lacrima versata sa che lascerà Segni che il tempo non cancellerà Mai più Mai più Ce l'ha questa posa alla Cristo Redentore, è un genio. Mai più Mai più Bello anche con questa coda finale ripresa dal live Ad aprile e maggio 2023 Stade smarrite è tornato sul palco a distanza di 15 anni Nelle città di Londra, Berlino, Torino, Bologna, Roma e Milano Ah, perché prima non l'avevano più suonato probabilmente? Non ho idea Ha venduto oltre 2500 biglietti Mandando sold out 5 serate sulle 7 totali La versione originale di questo brano venne scritta Composta ed arangiata da Eugenio Borra Nell'inverno del 2007 Quindi addirittura a 16 anni Questa versione è stata prodotta da Eugenio Borra E Matteo Ciube Tabacco Matteo Ciube Tabacco è quello dei linea 77, giusto? Ah, Vicenza Aspetta, Matteo Ciube Tabacco Ho detto una cazzata o è quello dei linea 77? Matteo Ciube Tabacco No, 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 no Dei Dufresne, vero? Non dei linea 77 Sì, Ciube è quello dei Dufresne Sì, 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 me lo ricordo Sì, 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 sì Ok Ok Archie Alberto Cipolla Ok, finisce qui Motor City Produzioni E basta Ragazzi, che dire? Allora, io non conosco, ripeto Non conosco granché i Bull Brigade Ma posso dirvi che questo In questa versione è il mio pezzo preferito dei Bull Brigade Se mi chiederanno qual è il tuo pezzo preferito dei Bull Brigade Dirò strade smarrite nella versione con l'autotune Oh, stateci ragazzi Se Eugenio vuole usare l'autotune Cioè, poi, alla fine Se un prodotto esce bene Va bene così Chi se ne frega se ha usato l'autotune Se ci ha messo gli archi Se ci ha messo le trombette Cioè, chi se ne frega Io Se un prodotto esce bene Cosa ti vuoi dire? Il video è figo Il pezzo è figo E Lo rende più epico Lo rende più Nello stesso tempo più epico E più introspettivo Quindi Niente da dire Bella per i Bull Brigade Bella per Eugenio Bella per l'autotune E Bella per voi ragazzi Mi raccomando Mettete un bel like Iscrivetevi al canale Commentate Insultatemi Se anche voi odiate l'autotune E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi